Ok ragazzi, benvenuti in un nuovo video. Oggi andremo a vedere di quanto volume abbiamo bisogno, quanto volume di allenamento. Una domanda che viene fatta molto di frequente, soprattutto su Instagram, sul Q&A, e c'è molta confusione in genere attorno all'idea di volume, soprattutto il fatto di quanto sia realmente necessario calcolarlo. Quindi in questo video cercheremo di parlare di questo argomento e capiremo esattamente nel dettaglio come comportarci. C'è molta confusione in merito, soprattutto per una sovrastima che si dà in generale al volume. È sovrastimato il fatto di dover calcolare il volume, di dover sapere quante serie allenanti ci servono, dover sapere esattamente come gestirle nel corso di una programmazione e capiremo esattamente perché non è poi così importante. Quindi in questo video parleremo in generale di volume e capiamo come andarlo a gestire. Allora innanzitutto, che cos'è il volume e a cosa facciamo riferimento? Il volume è il numero di serie allenanti della nostra sessione di allenamento. Quindi generalmente togliamo le serie di warm-up, le serie di avvicinamento al carico, le serie di riscaldamento e quello che otteniamo sono le serie effettivamente allenanti. Come capire che una serie allenante generalmente si basa sull'intensità che diamo? Noi sappiamo che lo stimolo ipertrofico viene dato tanto più ci avviciniamo al cedimento. Quindi nel momento in cui abbiamo un cedimento muscolare, allora lo stimolo ipertrofico è massimo. Più noi ci avviciniamo a questo cedimento muscolare, più lo stimolo ipertrofico è importante, è grande. Quindi normalmente un parametro per identificare che la serie allenante è il cedimento tecnico, ossia il fatto di portare una determinata serie fino al cedimento tecnico, fino all'impossibilità di conseguire un'ulteriore ripetizione in maniera tecnica, in maniera precisa, che non vuol dire arrivare al cedimento muscolare, di questo ne abbiamo già parlato spesso, perché magari in uno squat io non sono in grado di fare un'ulteriore ripetizione completa, precisa, con una forma di esecuzione perfetta, impeccabile, però posso fare diverse parziali in alto, per esempio posso scendere un po' di meno e le energie per farlo anche a livello muscolare le ho, quindi non è un cedimento completo ma è un cedimento tecnico. E il cedimento tecnico nel bodybuilding è a livello di intensità media, diciamo il minimo indispensabile per poter creare uno stimolo ipertrofico, quindi normalmente la serie allenante è una serie dal cedimento tecnico in su. Questo ovviamente è una maniera molto semplice di vedere la cosa e il discorso è molto più approfondito perché c'è una diversità per quanto riguarda i distretti muscolari, ossia non tutti i distretti muscolari rispondono allo stesso modo all'intensità, per alcuni distretti uno stimolo allenante ha bisogno di più intensità, per altri distretti uno stimolo allenante ha bisogno anche di meno intensità per essere allenante e c'è una diversità soprattutto in base all'esercizio, al contesto, eccetera, sono tutti temi che abbiamo analizzato nel dettaglio nella nostra academy su Rennonation.it quindi nel caso rimando a quel videocorso. Però già da questa definizione potete iniziare a capire perché non è così fondamentale calcolare in maniera maniacale il volume, perché in realtà il concetto stesso di volume è abbastanza fumoso in qualche modo, cioè se faccio per esempio una pressa e arrivo con un 8RM al cedimento tecnico ok perfetto ho fatto una serie allenante, ma se per qualsiasi caso mi fermo una ripetizione prima ho fatto 7 ripetizioni, posso dire che non è una serie allenante perché comunque l'effort che ho generato è molto molto importante. Allo stesso modo se utilizzo un sistema di piramidale, un warm up, un ramping, cioè tutti i sistemi di avvicinamento al carico differenti, come faccio a calcolare quante serie allenanti effettivamente ho fatto? Se sono all'inizio del mio mesociclo, alla fine del mio mesociclo, logicamente un impatto allenante è diverso perché all'inizio del mesociclo dopo aver fatto uno scarico il mio distretto muscolare è più recettivo agli stimoli, ossia basta molta meno intensità per creare uno stimolo effettivamente allenante mentre invece se sono già diverse settimane che sto nel mio mesociclo il muscolo è un po' più saturo un po' più abituato e per dare uno stimolo ulteriore allenante, visto che si è adattato allora ho bisogno di più intensità, questo è il motivo per cui normalmente la maggior parte dei nostri programmi che abbiamo fatto l'intensità vada ad aumentare gradualmente durante il mesociclo di lavoro perché il distretto ha sempre bisogno di stimoli un po' più intensi un po' più voluminosi anche se vogliamo. Quindi andare a calcolare in maniera maniacale il numero di serie allenanti non è esattamente una buona soluzione, anche perché sul web troverete di tutto trovate fautori dell'alto volume e fautori del basso volume, allenamenti aviduti però vi faccio un altro esempio, immaginate di fare un ramping sulla pressa quindi faccio 8 ripetizioni aumentando gradualmente il carico quindi prima con una pizza per parte, due pizze per parte, tre pizze per parte eccetera fino ad arrivare a fare 8 ripetizioni con 10-12 pizze per parte, quello che è e arrivo effettivamente là al cedimento ora io per esempio nel mio modo di calcolare il volume questo è uno schema di accumulo di fatica che rappresenta una serie allenante o al massimo 2 ossia la serie in cui ho fatto le 8 ripetizioni e quella successiva in cui non ho fatto le 8 ripetizioni perché quella in cui non ho fatto le 8 ripetizioni sono logicamente arrivato al cedimento ma anche quella prima con un carico inferiore ho toccato le 8 e probabilmente la stavo al cedimento quindi per me uno schema di ramping equivale a due ripetizioni allenanti, due serie allenanti mentre un'altra persona può benissimo dire che lui considera allenanti le ultime 5 per esempio che hanno già un'intensità abbastanza elevata a seconda del punto di vista, quindi io dico che ho fatto due serie allenanti sulla pressa lui dice che ha fatto 5 serie allenanti, magari facciamo lo stesso workout io dico ho fatto un workout di 8-9 serie per le gambe lui mi va a dire ho fatto un workout di 15-20 serie per le gambe e teoricamente stiamo dicendo due cose completamente diverse ma all'atto pratico abbiamo fatto lo stesso identico allenamento quindi da questo punto di vista io vi esorto a non essere troppo maniacali sul numero di serie allenanti che dovete fare tra un attimo vedremo come comportarci però ciò detto, in questo video voglio renderla un po' semplice dare delle cifre, dei numeri su cui basarci secondo quello che è il modus operandi che vedete poi in tutto il videocorso dell'academy quindi secondo quella sistematica là il numero di serie allenanti per le sessioni di allenamento dovrebbe andare dalle 8 alle 15 per sessione, per distretto muscolare quindi immaginate di fare una sessione di gambe ecco, normalmente 8 fino a 15 serie allenanti massimo di nuovo una sessione per esempio di bicipiti 8, quindi per esempio 3 esercizi il primo ne faccio 3 serie il secondo faccio altre 3 serie nell'ultimo faccio soltanto 2 serie allenanti oppure fino a 15, quindi per esempio 5 esercizi in cui faccio 3 serie allenanti per ciascun esercizio 3 esercizi in cui faccio 5 serie allenanti per ciascuno in base allo schema, all'impostazione, eccetera ci sono tantissime variabili però di media dalle 8 fino alle 15 serie allenanti è uno stimolo completo che possiamo dare alle sessioni di allenamento di nuovo dipende dalla fase in cui stiamo dalla priorità che vogliamo andare al distretto normalmente, logicamente, i distretti carenti avranno bisogno di più volume che andrò a togliere poi da altri distretti muscolari per quanto riguarda invece i richiami cioè nel momento in cui voglio inserire soltanto un piccolo richiamo per i distretti muscolari i richiami li abbiamo per esempio messi nel protocollo Zeus li abbiamo messi nel protocollo Icarus i nostri programmi di allenamento che trovate qua sotto in descrizione questi programmi utilizzano i richiami quindi normalmente nel momento in cui voglio inserire dei richiami allora il mio numero di serie allenanti potrebbe essere dalle 3 alle 5 quindi per esempio voglio inserire un piccolo richiamo di petto faccio delle spinte croci piuttosto che una Cespress faccio 3 serie allenanti oppure faccio una Cespress e poi delle Machine Flies quindi 3 serie allenanti di Cespress 2 serie di Machine Flies viceversa 2 serie allenanti di Cespress e 3 serie allenanti di Machine Flies che sarebbero le petto dal machine e questo è è un piccolo richiamo tocco il distretto non gli ho dato uno stimolo allenante completo ma l'ho soltanto richiamato e poi magari sul richiamo dedichiamo un video a parte se vi interessa scrivetelo come al solito qua sotto nei commenti molti ovviamente si chiedono ok perfetto quante serie allenanti invece devo fare all'interno della settimana ecco come sapete a me non piace parlare di settimana di allenamento perché la settimana è un dogma che viene imposto per motivi lavorativi io parlo di microcicli di allenamento che possono durare 7 come 10 come 14 giorni dipende come impostiamo il tutto il microciclo è un piccolo periodo alla fine del microciclo il microciclo il microciclo riparte dall'inizio quindi per esempio io potrei avere un microciclo di 8 giorni ogni 8 giorni il discorso riparte comunque normalmente per identificare il volume queste sessioni da 8 fino a 15 serie allenanti massimo dovrebbero ripetersi ogni 3 fino a 5 giorni in base al vostro recupero ora logicamente se stiamo parlando di distretti muscolari un po' più importanti più difficile allenare come le gambe sia il recupero dobbiamo dare è maggiore sia il volume che possiamo dare è inferiore se parliamo di distretti muscolari più piccoli quindi per esempio bicipiti o tricipiti allora il volume che noi andiamo a dare può essere un po' più alto e la frequenza può essere un po' più ridotta quindi alla fine nell'arco di tempo quindi da un punto di vista temporale il nostro microciclo di lavoro se vi piace parlare la vostra settimana di lavoro allora possiamo andare a dare un volume totale molto più elevato quindi normalmente il discorso è che più un distretto muscolare è grande e impegnativo più avrà bisogno di volume per dare uno stimolo ma meno volume riuscirà a gestire più un distretto muscolare è piccolo meno volume avrà bisogno per uno stimolo allenante ma più volume riuscirà a gestire quindi la forbice per i distretti muscolari è un po' più grande è un po' più piccola in questo senso più circoscritta mentre per i distretti muscolari più piccoli la forbice si apre in entrambe le direzioni ho bisogno di meno volume per stimolare ma posso anche sopportare più volume di nuovo di tutto questo c'è tutto il secondo modulo della nostra academy che parla proprio di questo analizzando ogni singolo distretto muscolare il volume che riesce a sopportare l'intensità che riesce a sopportare eccetera eccetera quindi anche il discorso del volume di allenamento dipende molto da quale distretto muscolare noi stiamo considerando ok detto questo cerchiamo di dare un po' una linea pratica da poter seguire il primo punto è quello di partire da un volume basso questo è un consiglio caldo che vi posso dare perché se vi state facendo questa domanda se state lavorando un volume elevato se già queste cifre che vi ho detto non vi tornano allora vi dico abbassate di nuovo il volume partite da qua iniziate un nuovo meso ciclo di lavoro in cui il volume che andate a impostare è prendere un distretto muscolare e scegliere 3-4 esercizi su cui lavorate bene e andate ad impostare 2 massimo 3 serie allenanti per ciascuno di questi esercizi ok quindi partite da un volume del genere che sta sulla soglia più bassa ora a questo punto una volta che vi siete assicurati che la vostra intensità di lavoro sia elevata quindi tutte queste serie effettivamente sono serie allenanti sono serie che portate al cedimento allora a questo punto iniziate ad aumentare gradualmente il volume aggiungendo una serie allenante per volta quindi ogni microciclo quando torno sulla stessa sessione aggiungo una serie allenante iniziate a far questo quando iniziate a sentirvi saturi di questo lavoro piuttosto che inserire una serie allenante inserite quindi sentite che avete un po' ancora di margine inserite un intensifier una tecnica di intensità un ulteriore failure point e in questo modo riuscite a fare un lavoro un po' più certosino un po' più preciso e ovviamente tutto questo dovete cercare di considerarlo sempre a fronte dell'intensità di lavoro che state veicolando cioè effettivamente dovete avere sempre una buona intensità e un metodo di paragone abbastanza buono che potete utilizzare è il logbook ossia vi segnate tutto quanto sul vostro logbook sul vostro appunto libro in cui segnate tutte quante quelle che sono le vostre progressioni le serie le rispettive ripetizioni col carico utilizzato e dovete vedere una leggera progressione anche in questo quindi la performance deve tendere a migliorare anche se aumentate il volume se vedete che iniziate a peggiorare state facendo volume spazzatura perché questo è il punto nevralgico della questione giustamente ci si chiede ok se faccio troppo volume che cos'è che succede in realtà il volume teoricamente è un fattore determinante per l'ipertrofia nel senso che più volume faccio più cresco e questo va benissimo questo è il motivo per cui dal mio punto di vista sui distretti muscolari carenti dobbiamo stare sempre lavorare sempre salvo periodi di scarico logicamente al massimo volume recuperabile il problema è proprio questo recuperabile ossia se fate troppo volume i casi sono due se avete una buona intensità a un certo punto non recuperate più quindi pian piano a un certo punto iniziate ad accumulare troppa fatica l'intensità la performance inizia a calare a quel punto dovete scaricare che può essere un qualcosa di congeniale perché arrivate in overreaching scaricate e poi ripartite tornate al volume che avevate forse un filo più basso lo aumentate gradualmente fino di nuovo ad arrivare ad accumulare fatica all'overreaching quindi questo va bene forzare un minimo il volume in alto va bene il problema invece è quando iniziate a forzare il volume in alto magari avete sentito un po' questo video queste cifre e non vi tornano e dite ma porca vacca luto è possibile io sto a volume molto più alto e lo sopporto bene allora sono un fenomeno ecco nella maggior parte dei casi non siate dei fenomeni semplicemente non state facendo in realtà nessuna serie allenante o meglio state tanto uno stimolo allenante molto molto blando cioè il vostro livello di intensità anche se voi pensate che è cedimento perché il cervello in questo vi fa percepire un grado di cedimento fittizio e questo è quello che avviene nella maggior parte dei casi anche se sentite che l'intensità è elevata in realtà state facendo junk volume il cosiddetto junk volume ossia volume e spazzatura sono tante serie allenanti che non raggiungendo uno stimolo allenante quindi non raggiungendo un grado di cedimento effettivo non mettono il muscolo di fronte alla necessità di adattarsi di andare a riempirsi adattarsi a livello ipertrofico generare nuova massa muscolare per fronteggiare lo stimolo perché ricordate sempre che l'ipertrofia è veramente semplice da un punto di vista concettuale è un metodo di adattamento all'ecosistema quando è che il nostro organismo si adatta all'ecosistema quando raggiunge un suo limite quando ha un ostacolo da superare il limite è raggiunto e rappresentato nel nostro caso dal cedimento muscolare che sia tecnico o superiore e normalmente è maggiore il cedimento più questa fase di allarme arriva forte al nostro organismo che attua tutti i processi che ha possibilità concreta ad attuare per potersi adattare a questo stimolo quindi se non mettiamo il distretto di fronte a questo cedimento di fronte a questo ostacolo lui non ha alcun interesse ad adattarsi anche se facciamo tanto tanto volume però lavorando a buffer non lavorando al cedimento il muscolo realmente non si adatta non cresce a livello di masse muscolare perché semplicemente si stiamo facendo tante cose ma sono cose che il nostro distretto può perfettamente andare a sopportare non ha alcuni problemi non ha raggiunto nessun limite stiamo all'interno sempre di una comfort zone magari miglioreremo l'alzata miglioreremo lo schema motorio e questo va sicuramente bene ed è il motivo per cui nel powerlifting si utilizzano molto queste cose perché? perché non stiamo lavorando sul miglioramento del muscolo sul tono muscolare su un adattamento muscolare ma stiamo lavorando sull'alzata cioè dobbiamo essere quanto più bravi possibili e poi in ultimo più forti possibili sulla nostra alzata motivo per il quale i powerlifter non sono grossi tanto quanto i bodybuilder ed utilizzano molta più chimica ve lo posso assicurare ok quindi detto questo è tutto per quanto riguarda il volume qualsiasi domanda logicamente scrivete qua sotto sarò ben lieto di rispondere come sempre e noi ci vediamo al prossimo video ciao